Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Face2Face, nuovamente in presenza. Abbiamo qui con noi Giordano Guerrieri, cofondatore e amministratore di Soluzione Funding, che è la società di imitazione creditizia, proprietaria del marco Corporate Credit. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te Flavio, buongiorno. Finalmente facciamo la prima intervista con Giordano, la facciamo in presenza, quindi siamo tutti molto felici. Parliamo di questa nuova realtà della mediazione creditizia, una start-up nata nel 2020, ma verso la fine del 2020, e che nel 2021, in piena pandemia, ha mosso i suoi primi passi. Come è andato quest'anno? Quest'anno è andato molto bene, direi che l'obiettivo di intraprendere una nuova realtà della mediazione creditizia in pieno lockdown, in piena pandemia è stata una bella sfida da vincere, però i risultati ci hanno dato ragione. Fa parte di un gruppo importante, Soluzione Tasse, votata in borsa, quindi vi rivolgete prevalentemente o esclusivamente alle PMI italiane. L'obiettivo è proprio quello di dare nuovi strumenti, nuove possibilità le PMI italiane, quindi il nostro focus è aziendale. Aziendale, abbiamo detto pandemia, nascere digitali. Nasciamo assolutamente digitali, infatti l'obiettivo nostro, quello mio e del mio socio, Gianluca Massini Rosati, è stato proprio quello di dare nuovi strumenti di facilità di accesso al credito, quindi diamo strumenti che mettono in condizione le PMI italiane di capire immediatamente se possono percorrere la strada del merito creditizio e del credito oppure no. Digitali non solo nel canale di acquisizione, ma digitali anche perché state costruendo degli strumenti, degli algoritmi proprietari che vi consentono di dare queste risposte in tempo reale. Internamente abbiamo voluto proprio creare dei sistemi informatici che ci permettono e che permettono alle PMI italiane di capire realmente se un'azienda è meritevole di credito, può percorrere la strada del credito. Se l'algoritmo risponde negativamente, ovviamente i nostri consulenti interni fanno tutto ciò che è possibile per arrivare a meritarlo il credito. Quindi il merito creditizio va costruito, va meritato e quindi se non è disponibile il merito immediatamente va costruito nel tempo per renderlo possibile. Accesso al credito, 25 opportunità di convenzione tra fintech, consorsi di garanzia, banche tradizionali, challengers bank, abbiamo proprio voluto portare tutto ciò che è possibile ottenere nel mondo del credito italiano. Oggi le PMI italiane si trovano in un momento difficile di estremo cambiamento, quindi quello che noi abbiamo voluto fare e vogliamo fare è quello di dare più opportunità. Di solito l'imprenditore medio italiano va dalla sua banca, la banca storica, al direttore di filiale, quindi percorre sempre le vecchie linee tradizionali. La banca del territorio. La banca del territorio, quindi sappiamo benissimo che fra esuberi, fusioni, chiusure di filiali, tutto quello che sta capitando al mondo bancario nazionale porterà un deficit di relazione tra l'impresa e la banca. Noi vogliamo colmare questo deficit portando strumenti digitali, fino ad oggi abbiamo costruito gli strumenti digitali e ora ci stiamo apprestando ad arrivare anche alla figura centrale che poi gestirà le aziende. Finanza ordinaria, ma in realtà vi siete strutturati anche per supportare le aziende sulla finanza straordinaria e su quella agevolata. Assolutamente sì, perché il nostro concetto di finanza aziendale è quello di dare tutta la finanza aziendale, sia per i mandati che hai citato prima, quindi fintech, consorzi di garanzia, banche tradizionali, ma sappiamo benissimo che un'impresa, un imprenditore ha bisogno di altri strumenti all'interno della finanza aziendale, quindi finanza straordinaria, parliamo di mini bond, M&A, eventuali quotazioni in borsa, ma poi parliamo di finanza agevolata, quindi il PNRR, questi pseudo 200 miliardi che arriveranno, vogliamo aiutare i nostri imprenditori a prenderli oppure li vogliamo far tornare indietro all'Europa? Non anche capire come e a cosa servono. Assolutamente sì, dobbiamo sfatare il mito del finanziamento a fondo perduto, questo è un mito che infatti molti imprenditori quando si rivolgono a noi arrivano senza le idee, quindi voglio il finanziamento a fondo perduto, questo non è fattibile, però i nostri consulenti fanno uno screening dell'azienda, verificano quali sono i piani industriali e il business plan di sostegno dell'investimento dell'azienda per arrivare a avere poi quelle linee agevolative che possono effettivamente aiutare le aziende italiane. Allora, quindi costruita la macchina, adesso bisogna trovare i driver che portano questa macchina dalle imprese. Oggi, come abbiamo detto, come ci hai raccontato, le imprese le avete sempre contattate tramite strumenti digitali, tramite telefono, comunque a distanza. Da quest'anno vi state concentrando invece sulla costruzione di una rete che possa fisicamente andare dall'imprenditore. Assolutamente sì, quello che abbiamo costruito in questo anno di attività è proprio tutta la procedura digitale per lo screening, il monitoraggio e il sostegno alle PMI. oggi siamo arrivati al punto che possiamo iniziare a selezionare alcuni profili senior che abbiano già esperienza nel mondo del credito aziendale, perché il credito aziendale ha bisogno di esperienza, di dinamiche aziendali molto particolari. Non è un finanziamento e via, ma c'è bisogno di consulenti che abbiano un'esperienza costruita negli anni e che capiscano realmente quali sono le dinamiche aziendali. Noi vogliamo quel profilo di persone lì. Molto specializzato, con esperienza e che conosca gli strumenti necessari. Quindi non è un percorso per tutti. Assolutamente no. Però l'obiettivo qual è? Quale obiettivo numerico vi siete dati? Io di natura sono un ottimista e un ambizioso, quindi il nostro obiettivo sarebbe di avere nei prossimi 5 anni, quindi un piano industriale a 5 anni, di avere un referente per provincia italiana. È un obiettivo ovviamente ambizioso, ma questo contraddistingue un po' corporate credit e il gruppo soluzione tasse. Quindi dobbiamo lavorare per obiettivi ambiziosi. Poi vedremo il mercato come risponderà, vedremo se seremo pronti ad arrivare a questo obiettivo. Se ci sono le risorse necessarie, perché stiamo parlando di un numero cospicuo di operatori. 130 per la precisione. 130 specialisti, insomma sul mercato andate a ripetere una gran fetta di specialisti. Poi specialisti che sappiano parlare sia di finanza ordinaria, finanza straordinaria e finanza agevolativa. Quindi il nostro specialista ovviamente sarà seguito e formato costantemente dai nostri back office, dai nostri responsabili di reparto, dai nostri responsabili di prodotto, però c'è bisogno di qualcuno che abbia voglia di vedere un'ampia opportunità. Non so se l'avete previsto, però so che tu ami la formazione. Stiamo parlando di un settore molto specializzato, un pensiero su un vostro percorso di formazione per le risorse, lo avete parlato? Sì, assolutamente c'è già. C'è già all'interno, non lo pubblicizziamo perché non va pubblicizzata la formazione interna, perché poi sennò diventa uno degli asset, ma la formazione interna aziendale noi la vediamo come una cosa normale, deve essere fatta. Noi abbiamo una nostra academy interna formata da noi manager, ma anche da professionisti esterni che vengono chiamati per portare il loro know-how, la loro formazione e sono due appuntamenti alla settimana di un'ora, il martedì e il giovedì, tutti i nostri collaboratori si collegano con la nostra piattaforma interna a fare della formazione. Sicuramente più che andiamo avanti, più che questa prenderà piede. Sono un amante della formazione. Assolutamente. Bene, allora intanto grazie Giordano per questa presentazione, per questo racconto e della vostra visione di quello che può essere la vostra futura attività, spero di rincontrarci tra qualche tempo per raccontarci come sono andate le cose e darci anche delle buone notizie in termini di accesso al credito per le PMI che storicamente non è molto semplice. No, non è molto semplice, purtroppo la previsione che ho io, questi sentiment che mi arrivano un po' dalle parti, la fine del temporary framework, l'inizio del codice della crisi, insomma ci sono un po' dei sentiment non bellissimi per quello che si prospetta per le PMI italiane, motivo in più che noi vogliamo essere un punto di riferimento per aiutare le aziende italiane a gestire meglio la propria finanza aziendale. Noi incrociamo le dita, speriamo delle fintech e ci rivediamo presto. Grazie mille Flauio. A te grazie. Grazie a tutti. Arrivederci e al prossimo appuntamento. Grazie. 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 Grazie.